Cosa birremo nel 2034? È la domanda alla quale prova a rispondere la Summer School di quest'anno della Fondazione Banfi. 25 persone da tutta Italia, tra neoloreati e professionisti del settore, selezionati tramite apposito bando, si incontrano a Montalcino per riflettere sugli scenari possibili del futuro del vino, alternandosi tra il complesso di Sant'Agostino e Castello Banfi. Siamo molto orgogliosi di avere questa Summer School, Sanguisiovis, perché c'è molti talenti insieme per pensare del futuro, non solo del vino, ma anche il futuro del territorio di Montalcino e anche l'esperienza del vino nel tutto il mondo. A introdurre i temi dell'edizione 2024 della Summer School, Alberto Mattiacci, docente dell'Università La Sapienza di Roma e direttore di Sanguisiovis, l'alta scuola del Sangiovese della Fondazione Banfi. Prima notizia è che in realtà tutti noi, esseri umani, siamo continuamente protesi al futuro e pensiamo al futuro, solo che magari non lo facciamo consapevolmente. Le organizzazioni produttive, ma anche le istituzioni, invece devono essere consapevoli del futuro, perché devono inserire delle possibili visioni di questo futuro nei loro processi decisionali, cioè le scelte di oggi che vengono prese per il domani devono essere prese con una certa consapevolezza su quello che potrà essere il domani. Chiaramente il futuro nessuno lo conosce, una cosa bella di parlare di futuro è che tanto è sbagliato per definizione, per cui si possono dire tante cose, però in realtà esiste una branca di studi che sta crescendo molto, si chiamano Future Studies, che si occupa proprio di questo e ci dà un po' di strumenti concettuali per ragionare sul futuro. Tra i relatori della Summer School, l'ex ministro e già presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, docente dell'Università Tor Vergata di Roma, Gabriele Gorelli, primo Master of Wine italiano, e Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione Italiana Vini e alla guida del gruppo Marchesi Frescobaldi, che controlla Montalcino, Castelgiocondo e Tenuta Luce. Il valore della vigna, il valore della tradizione, questi qui sono tante volte dei termini abusati. Noi dobbiamo avere grande rispetto di quello che avviene fuori e non usare la parola tradizione come il luogo, diciamo, comodo delle nostre paure. Tante volte quando le persone nominano la parola tradizione è perché hanno paura del futuro. Per quello poi il mondo è dei giovani. I giovani hanno molta meno paura e bisogna sempre quindi lasciare spazio ai giovani. Io sono sempre ottimista in questo. E mentre gli studenti della Summer School fino a venerdì si interrogano sul futuro del vino, abbiamo chiesto a Cristina Mariani Mei, tra le imprenditrici più autoregoli d'Italia in USA, proprietaria di Banfi, come vede la sua azienda, il Brunello e Montalcino, tra dieci anni. La idea also in Banfi in the future, è non solo di essere di costruzione di costruzione, costruzione di sviluppo in il vino, ovviamente per sostenibilità, ma ovviamente anche per lavorare in quanto riguarda le vienze in un calmero di climà, ancora naturalmente, e in quanto riguarda le vienze che le persone ancora vogliono non si anche per l'amico vero il mondo. E quindi, come facendo attenzione, è importante comprare al vagabondità. E non solo di metà il dettaglio e la tecnica di questo, che sono sempre importanti con il Tecnico e il Giorrelli, il Tecnico. Ma è anche per portare le mie relazioni, perché noi non vediamo 10 anni da ora cosa il mondo sarà come. Abbiamo magari di cambiamento climatico e abbiamo esperti a parlare di questo, ma non ne vediamo necessariamente del consumatore e di quello che vorrei. Ma una cosa che sono sicuramente è che la storia di Castello, la storia di territorio senza Medievali Agi, non ha mai avuto. A love for all things Tuscan, Italian, a love affair for the history e to respect that e, of course, to look forward to the next generation. The future for me personally is hopefully one day to have my children here as well with me because this is a family business and we work not just my immediate family but the family of Rodolfo Morale, Elisabetta Koenig with the family of Fondazione Banfi. So we have to stay open-minded, keep going, keep working and see where life will take us and as Alberto Macchiacci said, to stay positive, to look at the positive things that this beauty of this territory has to offer in the estate and to keep an open mind and then to bring us into a future that will hopefully bring better wines, more hospitality and more love of all things Italy. by掉ri scene Grazie.